Sergei Karganov, consulente di Putin, ma anche molto vicino ancora al capo del Cremlino, che a un certo punto avrebbe detto se va avanti così, degli obiettivi europei potrebbero essere colpiti o lo saranno per interrompere le linee di comunicazione. Ora, questa minaccia, come la maneggiamo? Allora, non è la prima volta che i russi affermano il loro diritto di interrompere il flusso di aiuti militari, non umanitari, verso l'Ucraina, anche se poi è sempre difficile distinguere, perché i convogli possono portare l'uno e l'altro, ma questo è un'altra faccenda. Quindi, senz'altro, se questo intervento avviene in territorio ucraino, è un conto, è un atto ostile, ma in un territorio in questo momento di guerra. Dovesse intervenire in un paese confinante, sarebbe leggibile come un attacco al paese confinante, e i paesi confinanti fanno parte dell'alleanza atlantica, quindi potrebbe innescare. Ma è un avviso che dobbiamo prendere sul serio, perché questa è la preoccupazione di tutti noi. Dobbiamo prendere sul serio tutto quello che viene dalla Russia.